Eccoci qui, ci troviamo per tutti uniti, per Leo, con il grande dottor Alicicco. Grazie, grazie. Sono veramente felice. Questa è una manifestazione che rende onore allo sport e a voi che l'avete organizzata. Ecco, noi ringraziamo tutti gli organizzatori che fanno molti eventi per solidarietà anche. Questo è importante. La solidarietà oggi deve essere il momento di questo paese che invece la sta perdendo, sta strada. E' bello vedere queste cose, è bello vedere una città come quella di Ciampino che ha organizzato la grande, qualcosa di bello. E io sono felice di esserci. E noi siamo felici che ci sia perché lei è un mito per tutti noi tifosi della Roma e anche per gli altri tifosi in generale. Grazie, grazie veramente. Grazie. Vogliamo dare due battute sulla Roma di adesso, della nuova Roma? Ma dico, se giocasse sempre con la stessa tattica, ma più che altro con la stessa voglia e con la stessa testa che ha giocato l'altro giorno contro il Barcellona, ho la sensazione che in Italia per da poco. Me lo auguro perché noi in Italia e a Roma ogni tanto ci perdiamo. Perciò Rudi Gazzia, cosa diciamo su Rudi Gazzia? Rudi Gazzia per me è un signore allenatore, anche se qualcuno non gli sta bene. Io penso che sia un gran bell'allenatore e che va lasciato lavorare per quello che sa. Ecco, lasciamo lavorare. Due parole su Francesco, sul Capitano? Io di Francesco ho già detto tante cose. Francesco dovrebbe essere clonato, così non si perde più. Perfetto, allora io la ringrazio e mandiamo un saluto a tutti e un saluto a Leo. Grazie, un abbraccio a Leo. Un abbraccio a Leo, forza Leo. Sente, forza Leo, fai, fisso. Ok, grazie di nuovo. Di nuovo.